La natura fa il suo corso, questo lo sappiamo, ma quando l'uomo ci aggiunge del suo a peggiorare le cose, il risultato è veramente mortificante. Viale Italia a Fano, zona da poco risistemata per quanto riguarda la viabilità pedonale e quella ciclabile, oggetto anche di lungimiranti e futuribili progetti di viabilità sostenibile dell'amministrazione comunale, ma non sempre le idee fanno il pari con le possibilità perché ci sono giunte numerosissime segnalazioni e lamentele degli abitanti del quartiere, soprattutto da parte di anziani o persone che si spostano a piedi lungo Viale Italia. Lungo appunto il marciapiede, però dal lato pesero della strada, gli altissimi platani costretti nelle piccole piazzole a loro destinate, ricavate nel selciato del marciapiedi, si stanno prendendo il loro spazio, deformando pericolosamente, per chi passa, è chiaro, il selciato, alzando le mattonelle di diversi centimetri e aprendo profonde fessurazioni nell'asfalto, oltre che smuovere e danneggiare anche i muretti di recinzione delle case adiacenti. In alcuni punti, soprattutto nella parte iniziale della strada, lo spazio è praticamente inesistente ed il marciapiede inutilizzabile. A questo aggiungiamo oltre una decina di spazi ricavati inspiegabilmente anche di diversa natura, alcuni grandi, alcuni piccoli, alcuni ricoperti di ghiaia, altri lasciati o completamente vuoti o addirittura pericolosamente con il moncone del tronco in bella vista, e questo su ambo i lati della strada. Brutto spettacolo da vedere, oltre che inspiegabile scelta architettonica. Alberi ancora da piantare? Alberi tagliati e mai rimpiazzati? O errore progettuale? Quale risposta? Ma nessuna certezza, di certo ci sono sicuramente le lagnanze di chi ci vive. Andrebbe ripiantato o tappato lo spazio degli alberi? Tappato, assolutamente tappato. Gli alberi qui poi sono bellissimi, ci fanno anche una bella ombra, però stanno un po' concludendo il loro ciclo. Ha visto gli alberi piantati, poi tagliati, con le buche rimaste così? Ma non sono lavori da fare. Eh, sarebbero. Perché hanno lasciato tutta questa immondizia, perché poi c'è la gente qui che passa, poi è un viale importante questo qui. Bisognava rimettere un po' a posto. Eh sì, insomma, non sono lavori da fare, siamo veramente delusi per noi che abitiamo qui e questo, penso che non è solo il mio parere, ma il parere di chi ci abita. È lo stile fano. È lo stile fano? Sì, almeno. I giardini non sono curati, assolutamente, da nessuna parte. Al mare è uno schifo, ci vorrebbe un po' più d'attenzione per questi. Il verde. Certo. O perlomeno ripiantati, insomma, almeno. Non lasciati i buchi. Almeno ripiantati e soprattutto curati.